Capezzone, Invernizzi, Nicchi, Chiusa la votazione. La Camera respinge. La Camera respinge. Va bene, grazie. Onorevole Fico. Uno non c'è più, quindi 5.2 Simone Valente. Favorevole. 5.51 Simone Valente. Favorevole. Siamo poi a pagina 56.5.53 Fratoianni. Favorevole. Favorevole. Siamo all'Aula. Quello delle commissioni, 5.800. Favorevole. Grazie. Allora, cominciamo ad esaminare gli amendamenti. Grazie.